Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono ancora raffreddato come potete notare Allora, prima di tutto, premessa importantissima oggi, lo devo col cuore Un ringraziamento speciale a JWS, Juventus Women Supporter Che grazie alla loro diretta sono riuscito a vedere Juventus Atalanta mozzanica femminile Altrimenti, non si poteva vedere Rispetto all'anno scorso, secondo me, a livello di visibilità è stato fatto un passo indietro Nessuno lo dice, lo dico io, perché l'anno scorso perlomeno tutte le partite casalinghe della Juve erano su Juventus TV E adesso, con la scusa che le ha prise Sky, fanno vedere una partita a settimana Tutto il resto è nebbia, non si vede E quindi, francamente, credo che abbiamo fatto un netto passo indietro Netto, netto, e non va bene sta cosa Mi va bene Sky, ma la Juve avrebbe dovuto continuare a far vedere le partite della Juventus femminile Almeno quelle in casa, ecco Detto questo, finisce 1-1, Juventus che butta via due punti Non ci sono scuse, non ci sono attenuanti, questi sono due punti persi Un brutto, un brutto pareggio Alla fine, se andiamo a vedere la situazione di classifica Era importante oggi vincere, perché era nettamente alla portata della Juve Atalanta che è passata subito in vantaggio con un autorete di Salvai Juventus che dimostra che dietro, quando non c'è Saragama, subisce sempre qualcosa C'è sempre il rischio di ripartenze Ma la cosa più grave è che se la Juventus non blocca Bonansea Le partite si mettono sempre in maniera difficoltosa Bonansea è l'ago della bilancia Oggi Bonansea ha risultato una partita normale Cioè non nelle sue corde Lei di solito fa partite eccezionali Ne sta facendo normali E sta giocando in maniera normale E questo ha portato la Juventus alla fine a trovare Fortunatamente il gol pareggio con Aluco Ma niente di più Poche occasioni, c'è stato un gol annullato a Girelli Purtroppo era da annullare, perché questo va detto Una punizione alta Girelli sullo 0-1 per l'Atalanta ha sbagliato pure un rigore E anche lì io credo in Cristiana Però magari se continuo a sbagliare i rigori Forse vuol dire che non è proprio tranquilla Ed è il caso forse di cambiare tiratore per questo periodo Magari poi li faremo tirare più avanti Ma lì un'allenatrice dovrebbe pensarle queste cose Ci sono tante cose su cui un'allenatrice dovrebbe pensare Io uno che continuo a chiedermi è Sanderson cosa l'abbiamo preso a fare Visto che questa squadra ha bisogno di un attaccante di peso È spudorato Aluco non è un attaccante di peso Un attaccante che a me piace tantissimo a Luco A me a Luco piace tantissimo È la mia giocatrice preferita insieme a Bonansea Ma Bonansea e a Luco non sono attaccanti Sono esterni d'attacco, seconde punte Serve un attaccante di peso che in queste partite Anche se gli metto una palla alta La butta dentro Non è un caso Abbiamo avuto 20 calci d'angolo Non troviamo un gol su calcio d'angolo Ci sarà o no un motivo Ci sarà o no un motivo Poi Anche lì poi il cambio Ha tolto Sicora che è una che spinge Per mettere Irinen che è una che spinge Per tronella in centrale Perché? Boh Non mi sembra che Sicora fosse stanca A quel punto Tiri via piuttosto un'altra centrale E metti Irinen Così ha Irinen e Sicora che spingono Boh E niente ragazzi Sotto la pioggia di Vinovo È venuto fuori questo pareggio Che non va affatto bene E rovina nettamente i piani Scudetto della Juventus attualmente Quindi vuol dire che la Juventus Deve mettersi in testa Che per vincere il campionato Bisogna fare di più Le Juventus Women non possono permettersi Di pareggiare con questa Atalanta Che è una squadra di tutto rispetto Ma è sempre l'Atalanta E secondo me in questo campionato Fa parte nella metà Secondo me sono da dividere a metà il campionato E la diceva l'Atalanta Fa parte di quella sorta di squadre Che dovrebbero essere facilmente battibili Non è concepibile una partita come questa Non è concepibile Non è concepibile E come io reputo ancora inconcepibile Molte cose Tra cui ad esempio Il motivo ripeto ancora Perché non gioca Sanderson Probabilmente oggi era infortunata Visto che non è stata convocata Però tutte le volte E qua da inizio anno Che guardiamo le partite Della Juventus Women E qualcuno ha avuto la fortuna Di guardarle anche con Filippo Ruvolo E il gruppo JWS Eppure nonostante questo Continuiamo a vedere In panchina Sanderson E il motivo C'è ignoto C'è ignoto E noi continuiamo a avere bisogno Di un attaccante di peso Non lo so Non lo so ragazzi Io non la vedo bene Quest'anno Starò sempre vicino alle ragazze Farò i video Comunque Farò i video Continuerò a fare i video Senza problemi Perché amo la Juventus E amo le Juventus Women Però ecco Non sono molto ottimista Anche perché guardo la Fiorentina Con tutti i difetti Che ha la Fiorentina Perché la Fiorentina Sommi ha dei difetti Anche lei Non indifferenti Però è andata a vincere Tranquilla a Sassuolo E niente ragazzi Fiorentina è andata a vincere A Sassuolo Ha buttato La squadra che l'anno scorso Ha vinto il campionato danese Noi siamo stati tutti fuori Da chi è arrivato secondo Non lo so ragazzi Cioè queste sono tutte cose Cioè io ho visto la partita Anche stiva Con il Chelsea E giustamente Chi mi chiedeva Dicevo sì Le squadre inglesi Sono più avanti Però poi guardo la Fiorentina Giocare con il Chelsea Finisce 1-0 Cioè tutte queste cose qua Boh Cioè mi fa pensare O la Fiorentina è troppo Più avanti di noi O noi abbiamo un problema E secondo me Noi il problema ce l'abbiamo Ed è il problema Che purtroppo Si siede in panchina Ma lo serisco Da un po' di partite Ragazzi Ma io questo lo dicevo Già l'anno scorso Non dimentico La Coppa Italia Persa col Brescia E il campionato E il rischio Di aver perso Un campionato Secondo me Già vinto Come quello dell'anno scorso Ragazzi Dunque Finisce 1-1 Tra Atalanta Mozzanica E Juventus Su Juventus Atalanta Mozzanica Purtroppo pure in casa A memoria Se non ricordo male Dovrebbe essere Il primo pareggio Nel campionato Della Juventus Women Da quando è stata fondata Perché Abbiamo vinto tutte L'anno scorso Abbiamo perso soltanto La partita Col Brescia E con la Fiorentina Due sconfitte Abbiamo fatto Quest'anno Abbiamo vinto tutte Quindi sì Il primo pareggio Nel campionato di Serie A Per le Juventus Women Dalla loro storia Va bene Doveva capitare Era meglio Che non capitava Però Ragazzi Vi saluto E vi do appuntamento Nel prossimo video A proposito Tra circa tre ore Andrò in scena Qua proprio Su questo canale Posterò il post Empoli Juve Ciao ragazzi Ciao ragazzi